3, ne pingava 3 prima ne abbiamo ammazzato è la taglia è la taglia uno è scappato con la macchina porca troia ah no no, c'è un altro ah no, c'è un altro aspetta, nascondimi, nascondimi mi prendi una forza cazzo, sto arrivando è ucciso, è ucciso non so come si è riuscito a non uccidermi lui è infatti che sei pure senza piastre è nascosto direi di scarolone si